Book 2 Ho bisogno di un tassi. Mi serve una piantina della città. Mi occorre un albergo. Vorrei noleggiare una macchina. Ecco la mia carta di credito. Ecco la mia patente. Cosa c'è da vedere in città? Vada nel centro storico. Faccia un giro della città. Vada al porto. Faccia un giro al porto. Quali attrazioni turistiche ci sono ancora? Quali attrazioni turistiche ci sono ancora? Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi.